Sono il sindaco della città, avrei potuto scegliere molti edifici da raccontarvi perché ho scelto questo, io amo molto il cinema, però chiaramente questo era uno dei teatri della città, teatro cinema e tutti i miei ricordi del cinema, quando andavo con mio padre, mio fratello da bambino, sono legati soprattutto a questo cinema, sia per il tipo di film che faceva, i western e Walt Disney, i film importanti, ma anche perché Liberty, adesso non possiamo vedere da dentro, è bellissimo, vi erano queste strane finestrelle con questi colori rosa che scendevano e un grande albero di Natale che era altissimo, poi negli anni questo cinema chiaramente ha segnato gli anni all'università, quando io decisi di rimanere in questa città e venivano qui i grandi film importanti e c'era la fila che partiva da qui quando il cinema era il cinema, poi succede una cosa, nel 2001 il cinema era chiuso da sei anni, era un giorno intorno ai 14.30, io da deputato uscivo alla regione, passa qui e vede questo cinema chiuso, c'è un film che amo molto, Nuovo Cinema Paradiso e all'improvviso ebbe una furgolazione, era anche molto caldo, ricordo chiamai il direttore dell'Accademia un'immagine, Anna Maximenes, Gabriele Luce e disse una follia, riapriamo questo cinema, è stato uno sforzo terribile e dal 2002 abbiamo riaperto questo cinema che nella città universitaria, la quarta città universitaria d'Italia, era una delle monosale, se non la monosala che in Italia, perché era solo una sala, perché abbiamo voluto che rimanesse una sola sala, aveva il maggiore in casa, era il più frequentato, nel rimpianto 2008 avevamo ricevuto un premio, perché nel circuito cinema nel quale avevamo inserito avevamo avuto un aumento della presenza dei spettatori del 40%, era un posto bellissimo, era anche la gora della città dove si facevano gli incontri politici, chiedo ai miei concittadini non solo, anche ad esempio mi piacerebbe i politici, sono venuti qui a fare comizio e così via, sono venuti tutti, mi piacerebbe che ciascuno di loro raccontasse una piccola emozione, io ricordo un film che avevo visto qui con mio padre e con mio fratello, non racconterei il film, ma quel giorno ero orgoglioso di stare a fianco a mio padre, questo è un ricordo che porterò per sempre.